Ciao ragazzi, sono Raizen, bentornati su Mixtube, ed oggi insieme andremo a preparare i Prune Cake Zucca e Speck. Una ricetta velocissima. Vi elenco subito gli ingredienti. Due uova, 150 grammi di zucca, che andrà poi grattugiata, tritata, sminuzzata, martoreata, fatta a pezzettini. L'importante è che siano piccoli. 25 grammi di formaggio, 60 ml di olio di semi, 50 ml di latte, 50 grammi di amido di mais, 150 grammi di farina, 50 grammi di speck, 3 grammi di lievito secco, ed è facoltativo potete aggiungere un pizzico minuscolo di noce moscata. La preparazione è semplicissima. Unire insieme le due uova, i 25 grammi di formaggio, i 60 ml di olio di semi, i 50 ml di latte, i 3 grammi di lievito secco, e la noce moscata, se volete usarla. Una volta uniti, aggiungete subito l'amido di mais e la farina. Dopodiché, aggiungeteci anche la zucca e lo speck. E finalmente, si va in forno. 180 gradi, forno statico, per 40-45 minuti. E indovinate un po' come dovete controllare la cottura. Ovvio. Stecchini. Questa volta vi ho fatto una ricetta velocissima. Spero che sia di vostro gradimento. E spero che anche voi la prepariate e che me lo facciate sapere, magari taggandomi su Instagram. Vi ringrazio per l'attenzione che mi concedete. Non dimenticate di iscrivervi al canale, in maniera tale da non perdere le prossime ricette o i prossimi progetti. E noi ci rivediamo sabato! Con l'ultimo video dedicato alla zucca. Grazie, da Ryzen.